Ehm, vabbè, questi personaggi. Io vorrei ricordare che il Movimento 5 Stelle non si becca un euro di finanziamento pubblico a partiti zero. Quello che voi vi siete fottuti e non siete neanche capaci di pagare le sedi di partito a Roma. Onorevole Di Battista, cerchi... Onorevole Di Battista, abbia un linguaggio consono. Presidente, vogliamo sapere quanti soldi il criminale Buzzi ha dato al Partito Democratico, Mafia Capitale, se rappresenta le vostre scene di finanziamento. Fino a che non rispondete, state zitti, pezzenti. Onorevole Di Battista, la richiamo.